Aguila 2 ed Aguila 1 rispondete cambio Aguila 1 rispondete cambio Tu sei Aguila 4 cambio Scusate ma io che l'Aquila sono cambio Tu sei Aguila 3 cretino cambio Quell'Aquila 1 non può rispondere cambio Ma che è Aguila 1 cambio Cambio stai minchia passami a testa di cane cambio Stavo pisciando cambio Bisognerà entrare dalla fogna La condotta fognaria passa proprio di fianco allo scantinato della banca Ascolta abbiamo da fare la rapina e poi ti le bambini Io non avrei dovuto lasciarle Con la mia moglie andiamo dalla portiera La metrona che siete lì sotto A che punto siete cambio Abbiamo dimenticato il metro Non riusciamo a misurare i 200 metri per arrivare al punto cambio Aguila 1,2,2,2 Sono 220 cambio Siamo d'accordo tutti quanti A 15 giugno alle 8.30 Precisi e puntuali Bastardo che non c'è Ok cambio Cambio